Il potenziale del water management in Italia nel prossimo quadriennio può essere estremamente significativo. Stiamo parlando potenzialmente di 21 miliardi di euro di investimenti complessivamente tra il settore pubblico e il settore privato. Che cosa ci porta a dire che questi potrebbero essere i numeri? L'attenzione crescente al tema degli investimenti da parte sia del settore pubblico che del settore privato è una sensibilità sempre maggiore rispetto all'attenzione alla gestione della risorsa acqua. E' chiaro che questi 21 miliardi di euro di investimenti sono potenzialmente a rischio perché sono collegati a quello che sarà il contesto normativo che in questo momento si sta discutendo nel nostro paese.